Ciao grandissimi, benvenuti su Food Stories. Oggi andiamo a parlare di un'altra varietà di pomodoro davvero molto importante per me. È una delle varietà migliori che ho, è buonissima, eccezionale, molto particolare, che in pochi conoscono. Quindi oggi andiamo a parlare del pomodoro chiamato Ananas. Il pomodoro Pineapple, o come lo chiamiamo noi in Italia Ananas, è una pianta che fa parte della famiglia delle Solanacee e il suo nome scientifico, come tutti i pomodori, è Solanum lycopersicum. Sembra che appunto si sia originato in America, nel Kentucky, prima che appunto venisse introdotto in Europa e appunto riscotesse davvero molto molto successo in tutto il mondo. La pianta è indeterminata, la struttura è davvero molto robusta e questo mi piace molto, perché comunque il peso dei frutti è notevole, ma comunque io vi consiglio di legarla per sostenere appunto il peso dei suoi frutti. La rusticità di questa pianta è davvero molto molto buona, non dà grossi problemi nella coltivazione, regge bene qualsiasi tipo di terreno e vi dirò, regge anche molto bene le malattie, però naturalmente ragazzi, se viene colpita duramente, alla fine muore. La produttività secondo me è davvero molto buona, produce una buona quantità di frutti, considerando che sono anche di discrete dimensioni. I frutti sono simili a dei pomodori costoluti, sono circa 10-12 cm di diametro, di un color molto particolare, un giallo rosso marezzato, molto molto bello a vedersi anche al taglio e i frutti vanno facilmente oltre i 400 grammi. Come ho detto in precedenza, la polpa mantiene questa sua caratteristica molto marezzata di giallo rosso. E la sua polpa ha questo sapore davvero eccezionale che è un perfetto bilanciamento tra sapidità e dolcezza, con poca acidità. E inoltre, come ci ricorda il nome, questo pomodoro è davvero molto fruttato, è davvero molto fresco e in estate ragazzi vi posso assicurare che con un po' di sale, un po' di pepe, un po' di basilico, un po' d'olio, fate veramente un capolavoro se lo tagliate a bistecca. Come vi ho detto, il miglior utilizzo di questo pomodoro è l'utilizzo fresco, però se ne avete davvero in tanta quantità, vi posso assicurare che anche se fate delle conserve, delle salse, vi verrà tranquillamente dei sughi di alta qualità. Probabilmente andrà a perdere tutte quelle sue caratteristiche un po' fruttate, però vi posso assicurare che un piatto di pasta fatta con questo pomodoro non vi farà assolutamente schifo. Per quanto io preferisca il San Marzano, che ha un sapore molto più acido, molto più verace, devo dire che anche con questi pomodori molto a bistecca, molto dolci, molto saporiti, viene delle salse davvero spettacolari. In conclusione ragazzi, questo è un pomodoro che vi consiglio ampiamente, è un pomodoro che trovate davvero ovunque, se non sapete dove trovare i semi di questo pomodoro, ho fatto un video, ve lo lascio qui in alto nelle schede, dove appunto vi spiego tutti i trucchi per trovare tutti i tipi di semi, qualsiasi tipo di semi, trovate insomma qui in alto nelle schede. Quindi pomodoro molto produttivo, pomodoro molto resistente, pomodoro molto buono, non vi resta che provarlo. E quindi niente, dai ragazzi, mi raccomando, se vi è piaciuto il video lasciatemi un like, fatemi sapere qui sotto nei commenti la vostra, poi naturalmente se non siete ancora iscritti e vi fa piacere, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i nuovi contenuti e carico. Poi naturalmente ragazzi, qui sotto in descrizione trovate il link a tutti i miei social, compreso Telegram, dove appunto potete mandare foto, video, messaggi, insomma un po' di tutto, basta naturalmente siano tutti inerenti al food. E noi ragazzi, come sempre ci si vede, a un prossimo video, sempre qui su Food Stories. Ciao ragazzi! Ciao! Ciao! Ciao!